Il palazzetto di Colle dell'Ara è uno dei centri vaccinali che la ASL di Lanciano, Vasto Chieti, ha allestito insieme al Palamasciangelo di Lanciano come centro di prima accoglienza dei profughi in fuga della guerra. E' nel lab di Chieti Scalo che, grazie a un lavoro di sinergia tra ASL, Comuni, Questura e Prefettura, i cittadini ucraini ricevono una prima assistenza sanitaria, espletando contestualmente anche le prime pratiche burocratiche necessarie alla permanenza. Prima un tampone di controllo per escludere la positività al Covid, poi l'identificazione e la registrazione presso la postazione mobile della Questura, a cui fanno seguito il rilascio della tessera STP, acronimo che sta per straniero temporaneamente presente, e una prima sistemazione di concerto con i comuni e con le realtà assistenziali del territorio. Infine, la valutazione sanitaria che contempla anche la possibilità di una vaccinazione anti-Covid qualora i profughi ne fossero sprovvisti. In questa rete di assistenza sono attive anche le associazioni di volontariato, che fanno gioco di squadra con le istituzioni del territorio per aiutare i profughi in fuga dalla guerra. Tra queste, anche quella di Luca Fortunato, responsabile della capanna di Betlemme e dell'associazione Papa Giovanni XXIII. C'è anche un'altra informazione importante che va data e che riguarda i trasporti, i viaggi, perché queste persone che poi arrivano in Italia hanno bisogno di spostarsi per raggiungere i luoghi della sistemazione. Molti raggiungono anche parenti, amici che già si trovano sul territorio italiano. E Trenitalia ha messo a disposizione che cosa? Tutti gli spostamenti sul territorio nazionale per andare nella propria autosistemazione o sistemazione. Quindi entro cinque giorni dall'arrivo in Italia si ha diritto a viaggiare gratis con gli Eurocity, con gli Intercity e con i treni regionali. Bisogna avere o il Super Green Pass rafforzato, basta un tampone antigenico o melecolare nell'ultimo 48 ore, non bisogna andare in biglietteria, bisogna presentarsi direttamente al binario del treno che serve e appena il treno ferma chiedere, trovare il capotreno, far vedere i requisiti, quindi il passaporto, la registrazione che dimostra che sia da massimo cinque giorni e verranno loro subito assinati dai posti per raggiungere questa destinazione. Luca Fortunato, voi avete accolto appunto come associazione anche molti profughi. Che storie avete sentito dalle loro voci? La prima famiglia che abbiamo accolto arrivava proprio da Chieva ed era riuscita a scappare nei primissimi giorni. Gli altri di questo momento sono zone un po' più periferiche, sono scappate e sicuramente quello che mi ha colpito di più sono i nonni. Ho visto persone anziane di 80 anni con occhi persi perché a quell'età lasciare casa propria, le proprie cose senza sapere di dover tornare, proprio li ho visti spersi. I bambini e le donne invece che ho incontrato questi giorni, 30 anni, 40 anni, le mamme, 25 anni, i bambini invece è una forza, una vitalità, è un popolo forte, è un popolo che ha voglia di fare. Davvero li ho ammirati perché io non avrei avuto una forza così. Le storie sono queste, c'è anche tanto dolore per alcuni papà, alcuni uomini che invece sono rimasti bloccati, che non vogliono combattere, ci hanno raccontato. Anche di uomini che si sono nascosti e hanno paura di dover combattere. Questo ci ha un po' colpito, quindi la mancanza del papà o del marito.